Ho comprato delle sognole, ho comprato delle triglie da fare arrosto. Da oggi c'è di nuovo pesce fresco sui banchi della marina di Pescara. È fresco sicuro quest'oggi. Come lo cucina oggi? Una parola, però devo pulire un po' con la pasta, un po' al forno. Il fermo biologico è ufficialmente finito e i pescherecci sono tornati a solcare il mare Adriatico. Un po' di tutto abbiamo, dalle seppie, calamari, panocchie, merluzzi, sogliole. C'è un buon pescato questa mattina, un bel assortimento. Nella città che alla pesca deve il proprio nome, finalmente torneremo a gustare la fauna ittica nostrana, senza necessità di doverla importare da chissà dove. È finita la condanna di sempre perché sono 30 anni che c'è il fermo biologico, ovviamente senza retribuzioni. Un peschereccio come questo, tra due giorni, si va avanti in questa situazione qua, devi andare col telecomando perché non si arrivi giù. Non mai c'è, da fare tutte cose. Da andare a fare tutte cose, non è un casino. Il fermo biologico, che impedisce ai pescatori di calare le reti affinché i pesci possano riprodursi, desta sempre molte polemiche. Secondo coloro che vivono grazie al mare, vi sono altre soluzioni che tutelerebbero la fauna ittica, senza però impedire ai pescatori di continuare a lavorare. Il fermo, secondo noi, non si dovrebbe fare perché basterebbe limitare la zona di pesca. Il pesce piccolo sta dentro le semiglie, non si pesca dentro le semiglie, lì nessuno lo tocca. Il pesce che abbiamo a largo, quello dove sono andato io a pescare, è lì rimasto tale e quale perché non è il momento di riproduzione. L'unica cosa è che, ripeto, quei totani piccolini sono diventati più grandi, adesso il numero di pezzi abbiamo avuto una quantità maggiore di pescato.